ragazzi si parte si parte si parte dove andiamo non si sa lo scopriremo tra poco ma dove ci stai portando non ve lo dico ragazzi è una sorpresa avete portato il costume guarda se in monastero io me ne vado ma guarda che zaino gigante io mi sono portato due cosine così per passare la serata giovanotti avete fame è un pochino che mangiata meravigliosa ragazzi torniamo in resort e domani parte la registrazione del video caro stefano io non so a te ma mi sento gonfio come una rana e sono felice vada non basta a dormire che domani alle 6 Matteo ha detto tutti in piedi dai a ieri sempre se io manco sempre paga Matteo e buonanotte benvenuti a miata land è bello secondo me dare in qualche modo un po di soddisfazione alle macchine stesse non sono macchine immobili all'interno di un museo che prendono volpe ogni tanto le muovi le fai ma diventa un lavoro a patto sono macchine vive che trasmettono la loro emozione a persone che quell'emozione la vogliono vivere io domani voglio questa quando facciamo anche i raduni si creano dei bellissimi gruppi all'interno delle persone che partecipano alla fine è una formula molto semplice condividere la passione porta inevitabilmente a trovarsi più vicini e questo trovarsi più vicini poi si mantiene nel tempo sono Andrea Mancini e nella vita di tutti i giorni lavoro per una casa automobilistica per Jaguar Land Rover sono nato a Roma e abbiamo abitato inizialmente a Roma poi mano mano ci siamo spostati un po' verso il mare un po' verso il lago sempre un po' più lontano sempre con case un po' più grandi questo po' era legato anche al numero di macchina che mano a mano ci portavamo indietro e se pensa un altro trasloco mi uccido perché è impossibile da parte la macchina a me è piaciuta subito dall'inizio e all'inizio non me la potevo comprare quindi questo desiderio ha aumentato molto la voglia di possedirla poi ho comprato la prima usata tutta una storia di una ragazza che doveva comprarsi una can nuova io vendevo le Ford e quindi mi avevo fatto a scambio e l'ho venduta per comprare la seconda e però mi è talmente dispiaciuto aver venduto l'NA che ho detto basta no mano intanto mi devo ricomprare un'NA in qualche modo e poi non si vendono più e lì è stato l'inizio della fine ho visto che c'è anche un orticello qua sotto sarebbe una vigna la vigna sarebbe una vigna è stato un gran signore a rispondere è arrivato il momento tanto atteso è ora di prendere le Mazda entriamo in quel capannone laggiù e anche se sta piovendo ci andiamo a fare un bel giro e poi ci andiamo a fare un bel giro e poi ci andiamo a fare un bel giro guarda guarda si parte da Miata Land e si fa un tour con quattro Mazda dietro di noi c'è Stefano Gallo davanti Luca Spadano e ovviamente Kit Raina tutto questo treno di Mazda è il patron Andrea Mancini ragazzi il patron che bella come va sei pazzo porca miseria che sound attraversando questa è una macchina che ti fa divertire anche a basse velocità molto bene finalmente si parte è uscito il sole che bella giornata dopo tanta pioggia troppo piove qualche gocciolona di pioggia e tiro sul tetto che mi frega che mi frega partiamo? questo tasto qua questo alza i fari senza accendere per saltare e questo sono un pazzo appassionato chi costruisce in qualche modo queste macchine ha costruito queste macchine si sentiva parte dell'insieme e quindi dove ci hai messo qualche cosa in più hai dato qualche cosa in più ci hanno un po' più anima volevi eh e invece adesso ti sorbisci la mia faccia entriamo all'interno delle mura del resort tutto curatissimo tutto pulitissimo pavimenti eccezionali in quercia c'è una piscina qui fuori è strepitosa spettacolare ti fai la doccia apri la finestra e vedi il capallone pieno di Mazda Miata MX5 è un paradiso per me che è un paradiso che è un paradiso Andrea è un dispensatore di benessere, è un dispensatore di gioia Sei pronto? Chissà, chissà se verranno, chissà se in piscina con noi entreranno anche quelle vecchie code nere laggiù Ciao matti, matti col botto Allora sai perché? Chris Harris è arrivato qua, ha fatto il coatto, si è buttato tutto vestito d'estate Era luglio Adesso noi lo facciamo senza magra A Chris A Chris I wanna be with you always, always, always Cause that is what my heart said I'm in a better place Oh my god Oh my god ti devi iscrivervi al canale, fa freddo, ti devi iscrivervi al canale e se non ti iscrivi al canale? al manale andrea, grazie grazie a voi veramente esperienza unica, indimenticabile, posto magnifico e allora per quest'estate ci stiamo già organizzando moglie e figlie ma la macchina ce l'abbiamo anzi io la butto lì creiamo un codice sconto, officina del pilota per chi vuole venire in villeggiatura qui non è una cosa stupida chi mai ha portato un contenuto del genere su youtube non lo so solo per il tuffo vale l'iscrizione, l'iscrizione è più meritata ci vuoi ripagare? ti devi iscrivervi, diglielo tu spadano ti devi iscrivervi, non ci stanno alternative e metti pure un commento perché c'è a te che ti costa ma hai sentito quanto è fredda? troppo fredda, attiva le notifiche ragazzi e questa è una minaccia vera e propria se non ti iscrivi vi scateniamo il buon Stefano Gallo vengo a casa di ciascuno a farvi, proprio vi prendo il dito e ve lo metto su iscriviti comparirà un pulsante? qui, tu che c'è il telefonino in mano devi soltanto cliccarlo per iscriverti cioè fa questo sforzo ciao 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 ciao